No, volevo solamente dire che per quanto riguarda il permesso di soggiorno durante la sospensiva, nel mio caso era un rinnovo di protezione umanitaria, mi sono impuntata con la questura di Vicenza e sono riuscita ad ottenere un permesso di soggiorno. Adesso, quando gli richiedo, mi danno un permesso di soggiorno per richiesta asilo. Nel senso che lo so che non c'entra niente, però loro dicono è comunque un permesso temporaneo e per adesso a me stanno rilasciando quello, impuntandosi a volte, se riesce. Giovanni? Io semplicemente pongo un'altra questione prima che ci sia tutti i problemi, diciamo, affrontati dalla giurisprudenza, cioè ricongiungimento familiare sì o no con la protezione speciale, perché con la protezione umanitaria era escluso e si capiva perché diciamo c'era una forte vulnerabilità e quindi diceva tu non sei in grado di prenderti in cura a carico, diciamo, le persone, tu che sei vulnerabile. Ma qui non stiamo parlando di vulnerabili. Eppure la norma non lo prevede e scusate, diciamo, sono terra terra, nemmeno il software infatti del Ministero. Proprio la cosa terra terra. Non che questo mi spaventi dal punto di vista giuridico, ma come dire, dovremmo forzare il sistema software per inoltrare delle domande perché secondo me hanno assolutamente titolo ricongiungimento familiare, anche titolari di almeno una delle protezioni speciali che tu hai. Hai detto. È una questione aperta. L'aspetto interessante è che quando il decreto sicurezza abroga la protezione umanitaria, abroga anche la norma per cui era espressamente inibito alla protezione umanitaria di chiedere il ricongiungimento. Quindi fa un'abrogazione e non una sostituzione con la protezione speciale. Quindi in qualche modo avremo un'argomentazione in più per sostenere che in mancanza di un divieto espresso che prima c'era, il legislatore in qualche modo abbia voluto permettere alla nuova protezione speciale di accedere al ricongiungimento. È sicuramente una via da tentare. Sì, io non faccio le controversie in materia di ricongiungimento perché sono monocratiche e spettano i got. A mia conoscenza non è mai capitata una cosa del genere. Questa è una bella domanda. Certamente non ci sono problemi perché mi è capitato se il familiare è già in Italia perché in quel momento protezione speciale a uno, protezione speciale all'altro per vincoli familiari e ti salvi in corner diciamo usando l'espressione calcistica. Quindi sì, quello sì. Familiare all'estero, lì dobbiamo fare più di qualche riflessione. Sempre il solito sistema che presenta delle storture, chi scrive le norme magari non pensa a quelle che possono essere tutte le implicazioni. Abbiamo un testo unico dell'immigrazione che è martoriato dalle riforme e diventa anche difficilmente leggibile insomma. Non si sentiva? Capita poco spesso perché la persona piuttosto che provare un ricorso cosa fa? Normalmente converte il permesso da protezione speciale al lavoro e gli chiede il ricongiungimento. Però sarà interessante vedere quelli permessi di protezione speciale che non possono essere convertiti perché sono quelli che hanno le causole di esclusione dallo status di rifugiato e quelli si troveranno costretti se vorranno chiedere il ricongiungimento a provare a forzare il sistema e chiedere il ricongiungimento e andare in contenzioso eventualmente. Che poi mi chiedo che differenza c'è sul piano logico tra una protezione sussidiaria lettera C che ammette il ricongiungimento? No? Familiare? Mi pare sia l'articolo 29 bis. Che differenza c'è tra questa qua e una protezione speciale per conflitto armato con bassa intensità? Nessuna sul piano logico. Allora perché non ammettere? Anche questa è una stortura. Scusate. Veniva una volta giustificato dicendo il permesso per motivi umanitari è un permesso temporaneo, precario, ma questo non è più, adesso è convertibile in lavoro, è radicamento per cui ancora di più non sarebbe giustificata una limitazione a un diritto fondamentale come quell'unità familiare. Do il microfono a Lucrezia perché abbiamo due domande online. Allora la prima è questa. Un soggetto di diritto egiziano chiede protezione internazionale, viene convocato davanti alla commissione territoriale competente. Non sussistendo i motivi per protezione internazionale, in sede di colloquio presso la commissione, è possibile invocare la protezione speciale in subordine sulla base del fatto che il soggetto in questione abbia già trovato occupazione e attraverso il lavoro svolto sia in grado di far fronte ai bisogni della famiglia di origine, in particolare la madre gravemente ammalata. La seconda è una considerazione in realtà che dice, volevo segnalare il fatto che un giudice del Tribunale di Trieste mi ha detto che avendo saputo che il ricorrente asilo ha fatto domanda di speciale al questore in pendenza del ricorso, ha sospeso rinviando l'udienza in attesa della decisione sulla domanda di protezione speciale fatta in questura. Sulla prima questione, la domanda di protezione internazionale che abbia un fondamento solo sulla protezione speciale è assolutamente ammissibile. la commissione nazionale asilo nel circolare del 25 novembre dell'anno scorso dice la persona va comunque convocata, sentita anche se la questione è meramente documentale e poi ci sarà una decisione comunque nel merito, sia se la domanda è fatta come prima domanda, sia se la domanda è reiterata. Quindi sì, assolutamente ammissibile. Sulla seconda questione... Sulla prima questione concordo. Sulla seconda questione il giudice del Tribunale di Trieste, il collega che non conosco, probabilmente ha fatto così per un motivo di economia procedimentale, perché se vede che viene rilasciata la protezione speciale, forse non c'è neanche interesse a proseguire con il giudizio, salvo che l'interessato dica io ho ottenuto il minus, però a me interessa ottenere il di più. Magari appunto perché vuole ottenere un ricongiungimento familiare che la protezione speciale in ipotesi non consente, ahimè mi avrebbe da dire. Allora direi che se non ci sono domande, se non vogliamo fare cinque minuti di pausa, non lo so, ditemi voi, li facciamo, cinque minuti e poi diamo la parola al dottor Doro. Grazie. Intanto grazie. Ci rivediamo subito per non togliere il tempo alla relazione del dottor Doro e per poi consentire lo svolgimento delle altre attività istituzionali di Caiti. Quindi cedo la parola al dottor Doro che ci parlerà della protezione speciale nell'applicazione giurisprudenziale con una domanda nel suo titolo strumento utile ad una più celere definizione dei giudizi, una domanda, una provocazione. E quindi grazie ancora di aver accettato il nostro invito e buon lavoro a tutti. Allora ringrazio per l'invito. Grazie mille. Ho anticipato, cominciano già a vedersi i primi ricorsi e la soluzione che il Tribunale di Venezia ha adottato è stata quella dell'applicabilità analogica dell'articolo 19 term, soluzione non scontata sul piano della lettera della norma, non scontata, che porta con sé una serie di implicazioni abbastanza delicate tra cui anche l'applicabilità di un termine di decadenza che è quello di 30 giorni ad una fattispecie per il cui non è previsto, perché il termine di 30 giorni è previsto per il diniego di rinnovo di protezione speciale fatto dopo la commissione territoriale, non su istanza diretta al questore. Diciamo che si è passati un attimo, ci si è posti qualche punto di domanda, ma per ricondurre a razionalità il sistema molto probabilmente la forma processuale prevista per il rinnovo vale a maggior ragione anche per l'istanza con cui viene chiesta la prima volta. Ecco, questo è il problema più attuale con cui il tribunale ha fatto i conti, competenza collegiale, competenza monocratica. Alla fine 19 term, competenza collegiale e si è arrivati a questa conclusione. Se la protezione speciale possa essere uno strumento deflattivo del contenzioso, ecco, la domanda è una provocazione, ma è una provocazione pertinente direi, perché si ricollega a un interrogativo di fondo che è io che sono un richiedente asilo, posso scegliere di rinunciare alla protezione internazionale e chiedere direttamente la protezione speciale? Ecco, non è scontata la risposta positiva, perché stiamo parlando di diritti della personalità indisponibili e quindi, e poi, non dobbiamo dimenticarci che c'è giurisprudenza di legittimità che dice, attenzione, la domanda non va spacchettata, la domanda è unica. È per quello che io prima ho chiesto, ma quando fate istanza diretta di protezione speciale alla questura? La questura dice di, no, non sussistono i presupposti della protezione internazionale o bypassa questa cosa? Lo bypassa, mi avete risposto. E quindi questo è un problema, è un problema, perché il nostro sistema, molti di voi avranno letto anche i miei provvedimenti, parlo di presupposto negativo e presupposto positivo. Presupposto negativo, impossibilità di riconoscere la protezione maggiore. Presupposto positivo, vulnerabilità. Eh, non è quindi così scontato che si possa bypassare questo problema, tanto che, come ci spiegava prima l'avvocato Masò, la circolare dice, eh, però se la questura riconosce come possibile, come possibilmente fondata la protezione internazionale, allora lo dice al Vichia di Interagilo. Qui vi chiedo, chiedo a voi e sottopongo la vostra riflessione, lo dice, ma come deve dirlo? Lo dovrà dire, a mio avviso, con un atto endoprocedimentale, ma non con un provvedimento di diniego. Non è che perché esistono i presupposti della protezione internazionale, allora rigetti la domanda di protezione speciale, semplicemente trasmetterai gli atti alla questura, scusate, alla Commissione Territoriale, favorirai la presentazione della domanda, la interpreterai come domanda di protezione internazionale. D'altronde esiste una norma che è l'articolo 5,5, se non erro, del decreto legislativo 286 del 98, se mi viene chiesto come Ministero dell'Interno un permesso di soggiorno per motivi X, ma io ho tutti gli elementi per accogliere la domanda per motivo Y, non posso dire no, ciao, devo rilasciare il permesso di soggiorno per motivo Y, anche se non... Coma 9, scusate, purtroppo la memoria ogni tanto facci lecca. Sì, Coma 9, sì, è proprio quello che intendevo. Devo rilasciare il permesso per motivo Y, non posso prescindere da questa cosa. E questa norma più di qualche volta io l'ho utilizzata perché l'avvocatura mi diceva, l'avvocatura di Stato costituendosi diceva, eh ma il soggetto non ha mai chiesto il permesso di soggiorno per questo motivo, è la prima volta che lo richiede. È un'interpretazione formalistica che non mi trovo d'accordo perché c'è un onere di riqualificazione della domanda. È un po' lo stesso potere che ha il giudice di interpretare dal punto di vista giuridico la domanda. L'interessato espone i fatti, ma poi la qualificazione giuridica spetta alla PA e in seconda battuta all'organo giurisdizionale, insomma. Per questo dico attenzione a dare per scontato la rinunciabilità. Ed è per questo, posso dirlo senza timore, che nutrivo qualche dubbio anche più in generale su quella che è la prassi istanze di sanatoria. Vuoi l'istanza di sanatoria? Devi rinunciare alla domanda di protezione. Ma siamo proprio sicuri che sia corretto chiedere una cosa del genere? Non sono l'unico, eh. C'è un bel articolo della collega Breggia, se non sbaglio, della dottoressa Breggia, che era la presidente di Firenze, che ha scritto un articolo, dovrebbe essere su questione giustizia, se non erro, dove è stato approfondito questo aspetto. E più di qualcuno si è posto il problema, ma siamo proprio sicuri subordinare la sanatoria ad una rinuncia alla protezione internazionale? cioè, è per questo che dico, sembra che io sia andato fuori dal seminato, ma ritorno subito a bomba sull'argomento. Il tema della deflattività, della possibilità di arrivare in effetto deflattivo del contenzioso con l'istanza diretta di protezione speciale, deve fare i conti con l'indisponibilità. Stiamo parlando di situazioni giuridiche soggettive che trovano il loro fondamento sui diritti della persona e su norme internazionali, quindi di disponibilità. Ho qualche punto di domanda, io non do soluzioni, perché non do soluzioni, dico solo che ho qualche perplessità, proprio perché, badate bene, è lo stesso motivo per cui si dubita dell'applicabilità del principio di non contestazione nei giudizi di protezione internazionale. Il principio di non contestazione nelle cause in materia di diritti indisponibili no, non trovo applicazione, proprio perché è un precipitato, la stessa confessione non è possibile per i diritti indisponibili. Quindi, ecco, muovendo dal titolo, ecco, pongo questo come primo interrogativo. come il Tribunale di Venezia ha declinato la protezione speciale. Ecco, posso dirvi, posso darvi qualche spunto ricostruttivo. Uno, l'ho già dato prima, la razione temporis la riteniamo applicabile ai giudizi pendenti, certamente, ma non a quelli di rinvio perché riteniamo che quella, quel riferimento al 384 sia difficilmente superabile. Per quanto concerne poi le fattispecie applicative, io posso dire che la protezione speciale rimodulata col decreto Lamorgese posso esprimere anche un giudizio positivo su come è formulato il nuovo 19,1.1 che ci dice che cosa prendere in considerazione una cosa vi dico però attenzione che tutti questi elementi non devono sussistere tutti sono elementi che il giudice prende in considerazione può dare il peso preponderante a uno non è che una persona deve essere integrata socialmente alle ringoli familiari eccetera eccetera basta uno dei vari ecco poi ecco vi posso dire questo che la clausola di atipicità si è passati da un sistema totalmente atipico a un sistema strettamente tipico ad un sistema tipico con clausola di atipicità il rinvio che oggi troviamo al 5,6 gli obblighi costituzionali e comunitari consente di dare protezione a forme a vari casi che possono porsi nella prassi facevo un esempio prima i conflitti armati a bassa intensità a un altro esempio l'ho scritto non più di un paio di settimane fa signora di El Salvador o peruviana adesso non ricordo comunque centro-sud America che viene in Italia e subisce violenza domestica in Italia allora lì è vero che esiste il permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica però non c'erano le condizioni non toglie che questa è una condizione di fragilità rimpatriare una richiedente asilo in una situazione del genere è un dire non ti tutelo quando sei molto molto fragile quindi vittima di violenza domestica in carico ad una associazione che tutela le donne fragilità psichica uno più uno più uno fa tre quindi fa protezione speciale questo è un primo esempio un altro esempio in cui abbiamo usato la protezione speciale è stato ecco c'è stato un contenzione soprattutto con i ragazzi ram nati qua in Italia cittadini cittadini bosnieci non hanno mai visto la bosnia un giorno della loro vita allora magari non sono integrati perché non lavorano però hanno qui vincoli familiari sono nati in Italia se rimandati in Bosnia si trovano sradicati totalmente dal contesto di vita in cui sono vissuti non parlano minimamente bosnieco e rischiano di essere discriminati perché la Bosnia e per carità non si arriva a livello di persecuzione però la vita è difficile conosciamo bene i pregiudizi a cui sono sottoposti i Rom qui in Italia ecco anche in Bosnia insomma figurarsi arriva uno che neanche parla quindi anche quella l'abbiamo riconosciuta come forma di protezione ecco questa è stata un'altra ipotesi ecco poi c'è stato un episodio che mi ha colpito molto un altro caso che mi ha colpito molto e che vi fa capire come debba essere valutata l'integrazione sociale attenzione integrazione sociale non si intende solo lavoro va parametrata sulla base della persona che si ha di fronte caso di ragazza albanese nata in Italia nata in Italia da madre sottoposta purtroppo a tratta i figli della prostituzione cresce poi la ragazza cresciuta in Albania perché è tornata dalla nonna cresciuta in Albania la madre fortunatamente riesce ad affrancarsi dalla prostituzione torna in Italia la ragazza e in un anno fa quattro anni di scuola superiore in uno impara l'italiano e il tedesco in Trentino Alto Radige si vuole non premiare un percorso scolastico del genere con buoni voti ecco questo è un esempio anche questo di integrazione sociale allora chiaramente ai fini dell'integrazione sociale viene valorizzato il lavoro sicuramente se uno ha incontrato a tempo indeterminato a mille euro al mese che badate è che sono più frequenti di quello che si crede e sicuramente è preponderante però ai fini dell'integrazione sociale conta la lingua italiana valorizziamo il fatto che il richiedente asilo abbia fatto corsi e soprattutto abbia fatto l'audizione in lingua italiana oppure l'inserimento nella realtà sociale avevo è capitato per le mani un caso in cui sono stato relatore io di un ragazzo che aiutava nella comunità in cui era inserito nelle feste che faceva allora anche questo viene valorizzato insomma poi ovviamente dipende anche dal contesto che ha in patria e quindi ecco che quelle situazioni in cui non c'è conflitto armato pensiamo la Nigeria che non è dall'ETAC però la situazione comunque di sicurezza precaria scrivo io nei miei provvedimenti connota in chiave ulteriore di vulnerabilità la situazione del richiedente asilo perché è logico che un conto è trovare lavoro in un contesto in cui non c'è criminalità e un altro è cercare lavoro e reinserirsi nel mercato del lavoro in un contesto dove c'è criminalità dove c'è molta corruzione e quindi ecco valorizziamo anche il contesto sociale ed economico di provenienza ecco quindi questo è un aspetto importante i vincoli familiari anche questo c'è stata un'evoluzione molto interessante della giurisprudenza si è passati da un atteggiamento molto rigido in cui dire nuclei monoparentali solo i nuclei monoparentali perché negli altri casi no e si è passati ad un allargamento dicendo no anche il soggetto se ne capita uno almeno ogni camera di consiglio compagno con figlia quindi non si può ormai ecco l'integrazione sociale in questi casi attenzione viene valutata non l'integrazione sociale del singolo ma del nucleo familiare quindi la madre richiedente asilo che io sto valutando magari non lavora perché ha la bambina però ha il marito inserito che lavora si valuta la situazione del nucleo familiare d'altronde la situazione del nucleo familiare si prende in considerazione i fini dei redditi del gratuito patrocinio e perché non prenderla in considerazione anche dal punto di vista del quindi ecco tutti questi elementi vanno valorizzati e vanno dimostrati in giudizio e quindi qui passo all'aspetto molto delicato del potere di soccorso istruttorio il potere di soccorso istruttorio c'è certamente sia per la protezione internazionale che per la protezione speciale attenzione però perché esiste giurisprudenza di Cassazione che dice che il giudice non è tenuto ad esercitarlo per situazioni in Italia quindi non sono tenuto io come giudice poi lo faccio soprattutto a chiedere producetemi il contratto di lavoro le buste paga gli estratti contributivi INPS il CUD queste cose in modo tale ecco da dare corpo a dare consistenza alla domanda c'è stata una significativa evoluzione anche su cosa serva non serve un'integrazione irreversibile è sufficiente un buon inizio di integrazione quindi anche se non c'è una continuità lavorativa con un tempo indeterminato a 1200 euro al mese poco male basta una serie anche di contratti stagionali discretamente retribuiti cioè si cerca di valutare situazione e situazione tanto più se il contesto di provenienza è gravemente compromesso quindi ecco queste sono una serie di spunti di riflessione che posso dare un altro caso molto interessante che mi è capitato in ogni convegno lo cito perché anche questo è un problema del sistema è quello del richiedente asilo cittadino di uno stato ma stabilmente dimorante in altro qui abbiamo un bacco del sistema perché il sistema ci dice prendete in considerazione lo stato di sua nazionalità ma vive il dio se da quando è nato lui magari è cittadino georgiano ma si è sposato con una ragazza ucraina e ha vissuto sei anni in ucraina ecco la lettera c non posso darla perché è cittadino georgiano devo guardare la situazione della georgia ciò non toglie però che la protezione speciale aiuta e quindi gli abbiamo dato la protezione speciale quindi ecco la protezione speciale aiuta tutte quelle ipotesi di persecuzioni conflitti armati in zona diversa dallo stato di cittadinanza ma dove la persona ha vissuto stabilmente ecco questo è un altro esempio in cui la protezione speciale è utile poi ecco la prassi conosce poi diverse problematiche applicative una per esempio è la concorrenza delle varie forme di protezione speciale si pensi al richiedente asilo stabilmente inserito ma che ha anche problematiche di salute cosa gli diamo la protezione speciale o il permesso di soggiorno per cui è mediche dicevamo probabilmente la protezione speciale perché è più onnicomprensiva come forma ma anche più garantista è anche più favorevole quindi in questi casi riteniamo assorbente dare la protezione speciale in caso di concorrenza sono sono casi rari ma possono capitare possono capitare altro caso molto interessante le persecuzioni subite nei paesi di transito attenzione che devono essere specifiche ovviamente sarà compito anche dell'intervistatore fare domande specifiche quindi in sede di audizione di fronte al GOP magari non vengono fatte l'avvocato solleciti l'avvocato solleciti e ovviamente devono essere delle persecuzioni che hanno dei postumi in Italia questo da Cassazione che si è orientata in tal senso ecco quindi anche questo è molto è molto importante ecco poi l'avvocato Mason prima parlava di quella claudia di atipicità che consente di dare la protezione speciale in tutte quelle ipotesi in cui non riusciamo a starci dentro con gli altri permessi di soggiorno per casi speciali un caso è quello della malattia cronica perché il permesso di soggiorno per cure mediche è pensato per le malattie acute cioè per uno stato di salute precario acuto risolvibile ecco che con la protezione speciale io posso se aderisco magari a questa interpretazione stretta nel permesso di soggiorno per cure mediche dare che non mi vede tanto d'accordo devo dire dare la protezione speciale un altro caso in cui la protezione speciale può essere utile l'abbiamo visto prima richiedente asilo che si rende responsabile all'estero di un reato grave reato stativo non potremmo dare la protezione maggiore però valorizzando diciamo la protezione speciale del primo tipo diamo la protezione speciale è più frequente di quello che credete ne è capitato almeno 4-5 casi che ho motivato così quindi insomma è un ventaglio applicativo che consente di farci stare dentro diversi tipi di situazione molto molto ecco anche anche il solo molto molto delicate ecco ma anche il fatto di avere solo vincoli familiari capitato il caso di un ragazzo ecuador no salvadoregno allora situazione nel paese d'origine che sappiamo che è brutta brutta ma non è da conflitto armato ma poco ci manca vincoli familiari in italia uno più uno protezione speciale ecco ma anche se non lavora anche se non lavora o anche magari ha questo dice lavoro in nero nei condomini faccio le pulizie dei condomini il lavoro ecco il lavoro in nero non è valorizzabile ai fini dell'integrazione sociale però nell'ottica complessiva della delicatezza della situazione sì ecco quindi si tratta di situazioni come dicevo molto variegate rispetto alle problematiche sollevate dall'avvocato masone posso dirvi il tribunale non ha ancora avuto modo di affrontare il problema protezione speciale unità dublino non ne ho ancora la mia notizia non ne ho ancora avute l'interpretazione dell'avvocato masone parlo a titolo personale ovviamente non vincolo la sezione mi convince tutto sommato proprio perché un conto alla protezione internazionale e la direttiva qualifica l'unità dublino riguarda quello un conto sono le altre forme di protezione e comunque ritengo che se proprio si ha paura di affermare la competenza italiana possa essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di con riserva la clausola con riserva il diritto amministrativo riconosce il provvedimento condizionato quindi può essere detto sì ti riconosco la protezione impregiudicata ogni questione sulla competenza c'è cioè allora se proprio si dubita c'è anche questa possibilità per le questure cioè secondo me non vedo perché poi magari vi diranno eh ma il software non lo consente ho capito io ma non è che perché il software non lo consente stiamo parlando di diritti della persona non può noi non possiamo essere schiavi del software quando parliamo di diritti della persona e come come col pct col processo civile telematico il processo civile telematico è bellissimo ha delle rigidità ma non è che perché il processo civile telematico ha delle rigidità allora il programma ha delle rigidità come tutti i programmi allora non si possa fare una cosa che da codice è consentito cioè è il software che si deve adeguare alla realtà non la realtà che si deve adeguare al software non so se siete d'accordo ecco questo questo è quello che dico cioè capisco che magari come dicevo il permesso di soggiorno condizionato con riserva può avere dei problemi dal punto di vista del software però allora il compito è di chi fa il software di trovare soluzioni adatte insomma ecco poi posso dire che tendenzialmente la prassi del tribunale è quella di concedere la sospensiva soprattutto in presenza di un inizio di integrazione sociale dimostrato positivamente dimostrato ecco si cerca di venire incontro e di preservare il procedimento di il processo ecco di integrazione posso dire che da quando è entrata in vigore la la legge la morgese ma lo vedo personalmente è le percentuali di accoglimento sono sono incrementate è un fatto statistico che probabilmente deriva anche dal fatto che magari andiamo lunghi con i processi e quindi nel frattempo il ragazzo o la ragazza si sono integrati hanno trovato lavoro hanno anche messo su in famiglia magari con italiani o con nazionali e quindi si sono integrati quindi comunque posso dire che al netto di quelle storture che magari prima l'avvocato Masone ha messo in evidenza tutto sommato il giudizio sulla riforma è stato positivo insomma resta però insomma da fare molto resta da fare molto e ripeto già solo il fatto di doversi rivolgere a giudici diversi per è grida vendetta cioè è un sistema della cui razionalità si dubita perché che senso ha una così grande una così grande moltiplicazione dei centri quando si dovrebbe cercare ecco di semplificare purtroppo la giustizia come tutta la pubblica amministrazione fa i conti con le risorse limitate e in questo senso ecco non ne ho parlato ma ne parlo l'ufficio del processo si sta avviando i ragazzi dell'ufficio del processo che sono arrivati ci danno una buona mano perché ci aiutano anche a trovare le COI non solo sulla situazione di sicurezza ma anche sulla situazione economica del paese d'origine e quindi classico esempio donna ucraina in passato quando non c'era il conflitto armato è protezione speciale per integrazione sociale si andiamo a vedere il tasso di disoccupazione in Ucraina le problematiche che il conflitto armato che c'era stato con la Russia nel 2014 ha creato la situazione ucraina insomma ci sono dei report che vanno trovati vanno tradotti in questo senso l'ufficio del processo aiuta e quindi ecco in chiave deflattiva è molto utile io ritengo di avervi sottoposto ecco qualche riflessione se avete domande anche da casa soprattutto benvenute e se posso ecco dissipare qualche dubbio insomma non ho la verità rivelata però insomma una tavola rotonda di confronto è sempre utile insomma anche nell'ottica dello scambio delle reciproche esperienze ecco grazie a tutti grazie grazie dottor Doro davvero un sacco di spuntini interessantissimi penso che ci siano delle domande una domanda una dal un paio insomma dalla sala più di una quindi passo il microfono allora soggetto di diritto egiziano giunge in Italia da solo richiede protezione speciale e nell'attesa ottiene occupazione ospitalità quesito soggetti che provengono da tale paese ancorché non vi sia guerra vista la precarietà dei diritti minimi ivi garantiti può vedersi riconoscere la protezione speciale raccogliamo un po' le domande perché insomma abbiamo una ventina di minuti quindi sì mi ha sollecitato tanti interrogativi entrambe le relazioni e sulla sulla rinunciabilità diciamo che non mi interessa molto il problema della deflazione diciamo dal mio punto di vista come avvocato dei contenziosi in tribunale mi interessa dal punto di vista giuridico ritengo che mi trova perfettamente d'accordo sul fatto che essendo un accertamento di status c'è l'onere di verificare quale sia la forma di protezione in corso di causa che più si risponda alle esigenze ma io mi chiedo la rinunciabilità al processo agli atti all'azione siccome corrisponde all'interesse del soggetto giuridicamente ammissibile facendo un parallelo con l'interdizione e l'inabilitazione dove lo stesso potere cognitivo del giudice ampio ritengo che ci sia e potrebbe esserci al di là di diciamo del requisito preliminare amministrativo cioè per rappresentare la domanda di sanatoria come lei ha citato o di protezione speciale devi aver già rinunciato questo lo ritengo che anche giuridicamente sia scorretto ma una volta ottenuto il titolo il titolo che gli permette di rimanere allora lì la rinunciabilità potrebbe avere anche un senso giuridico un altro punto mi interessava capire se rispetto ad alcune scelte che lei ha rappresentato del tribunale di Venezia nella sezione c'è anche un confronto su degli standard minimi perché la nostra esperienza e anche da un confronto interno nella nostra associazione ci rivela che ci sono anche delle discordanze nei requisiti minimi per identificare una volta l'umanitaria presumibilmente i stessi criteri come abbiamo visto il parallelismo per la protezione speciale volevo capire se ecco perché le sue riflessioni sono molto interessanti ci aprono degli spiragli però appunto non vorremmo che fosse così un orientamento brillante individuale ma che magari fosse una cosa della sezione su Dublino io volevo ritornare perché mi ha sedotto l'interpretazione di Francesco e la farò mia però devo dire che l'unità centrale di Dublino è molto rigida su questo cioè non ti corregge a monte il bestanet diciamo il codice per cui non ti permette di proseguire nella domanda devo dire e qui lo dico davanti a un magistrato con un po' di cautela uno strumento praticone per risolvere il problema è di presentare ricorso perché purtroppo le scadenze ci obbligano insomma a rispettare senza fare la domanda di sospensiva perché la decorre ampiamente il termine di sei mesi e questo ci apre la strada ci toglie il problema a monte quindi è una piccola strategia processuale che insomma condivido che è uno strumento con cui si può risolvere un problema che a monte non viene affrontato né dall'unità dublino né dalla legge e l'ultimo punto che volevo chiedere sull'integrazione sociale economica e tante volte ci scontriamo con l'elemento probatorio perché ci sono tantissime situazioni e soprattutto nella nelle zone della certe aree della nostra regione dove ci sono moltissimi stranieri dediti all'agricoltura in cui abbiamo delle forme di lavoro non regolarizzate e qui la prova sull'integrazione lavorativa è un po' fragile quindi noi utilizziamo delle promesse di assunzione quando a monte c'è un'irregolarità che non consentirebbe un lavoro un contratto di lavoro regolare anche se io ho contratti di lavoro regolari con persone che sono irregolari non so come fanno io dico se io non riesco a fare un contratto della luce se non ho tutti ecco va bene comunque questi sono ancora i misteri appunto se c'è una certa apertura anche sulle prove indiziarie di insomma su una capacità di sopravvivenza di autonomia sulla il versamento di soldi alla famiglia che fa presumere che a monte ci siano delle scusate perché avevo tante questioni da condividere buongiorno a tutti volevo chiedervi se un richiedente la protezione speciale direttamente alla questura premesso che da quando viene formalizzata la domanda in questura a quando la questura risponde può passare anche un anno e a volte più deve una persona che vive dei proventi del proprio lavoro deve durante quell'anno lavorare in nero deve vivere dei proventi di reato o poi invece formalizzare un regolare contratto di lavoro grazie buonasera io avevo una domanda se c'è qualche indirizzo qualche qualcosa di omogeneo in segno della sezione rispetto alla rilevanza di precedenti penali condanne definitive non definitive unico reato pluralità insomma c'è qualche indicazione su questo Marco Paggi avevo un'osservazione da fare sulla questione pendenza procedura Dublino e successiva presentazione in pendenza procedura Dublino presentazione domanda di protezione speciale ora l'argomentazione secondo cui non sarebbe ammissibile la domanda di protezione speciale in quanto pende la procedura Dublino e se si rilascia un permesso per protezione speciale a quel punto l'Italia diventa necessariamente paese competente anche per la procedura di protezione internazionale e salta la procedura Dublino è un argomento che francamente non mi convince sarebbe come dire sono diritti autonomi il diritto a chiedere la protezione speciale è un diritto che ha natura completamente autonoma rispetto alla protezione internazionale nelle due forme che conosciamo è garantita addirittura ed è presupposta anche dal regolamento Dublino questa possibilità di applicare norme nazionali di maggior favore e quindi queste costituiscono un diritto autonomo sarebbe come dire no non ti permetto non puoi sposarti perché se ti sposi poi avrai un diritto di soggiorno autonomo rispetto alla protezione internazionale oppure diventerò paese competente perché ti danno permesso di soggiorno in funzione del matrimonio e quindi mi salta la protezione Dublino e beh questo è proprio assolutamente fisiologico nel sistema non il contrario quindi non vedo argomenti per cui in qualsiasi momento non potrebbe essere presentata con autonoma valutazione la domanda di protezione speciale l'altra questione riguardava la condizione di eventuali destinatari di provvedimento di protezione speciale di persone in condizioni di salute precari e gravi io sono d'accordo fino a un certo punto nel senso che penso che siccome la norma 19 1.1 parla di rinnovo del titolo di soggiorno finché permangono le condizioni quindi queste condizioni potrebbero permanere anche per tutta la vita cioè sono patologie gravi che però sono croniche anzi quasi tutte le patologie gravi sono croniche cardiopatia cronica insufficienza respiratoria polmonare cronica diabete grave tutte le malattie che non recedono vanno tenute sotto cosiddetto monitoraggio ma il monitoraggio è una prestazione sanitaria non è un'attività turistica insomma ecco questo anche c'è stato c'è stato di che controvertire anche su questo la regione Lombardia che appunto diceva no il monitoraggio è fuori dalle prestazioni sanitarie essenziali in presenza di cardiopatia cronica eccetera ma allora in caso di questo genere patologia cronica il soggiorno per cure mediche dovrebbe essere innovato sempre se ciò è confermato da certificazione medica si ne die caso invece in cui potrebbe la posizione di interessato dovrebbe essere valutata sotto il profilo della protezione speciale quando vi è stato un evento sanitario di demanda sanitaria che ha portato però a una guarigione clinica cui rispetto alla quale residua comunque una vulnerabilità esempio se mi perdo un arto per un infortunio poniamo extra lavorativo perché non avrò neanche la rendita e magari per colpa mia perché non ho neanche risarcimento del danno sono clinicamente guarito una volta che mi hanno strutturato l'arto ma magari sono in una situazione di vulnerabilità di davanti sotto profilo sanitario ai fini della protezione speciale ecco questo volevo dire perché appunto le patologie croniche che poi sono quelle normalmente più rilevanti a partire anche dall'immunodeficienza sono coperte diciamo dall'area di applicazione del premesso per cure mediche sempre perdurando le certificazioni tutto qua sulla questione approfitto torno un attimo sulla questione pendenza procedura Dublino la sezione specializzata si è occupata di casi di questo genere finora non ha ancora avuto la concomitanza di un ricorso su procedura Dublino e di una sopravvenuta una sopravvenuta richiesta beh vi capiterà comunque garantisco che vi capiterà una questione invece che riguarda la possibilità di far rientro chiedo il vostro parere all'est il paese di origine quando si è in possesso del titolo della protezione speciale perché se guardiamo se riconduciamo tutta la protezione internazionale ci verrebbe da dire di no se invece riconduciamo tutti i presupposti cioè l'integrazione eccetera perché no ecco provocazione comunque una domanda che sta avendo un'autualità sempre maggiore quindi vi restituisco il microfono sulle sollecitazioni me ne sono sognate qualcuno per richiamarle allora vado a memoria dunque parto con quello più semplice dell'avvocato Tartini con la mascherina non la riconoscevo senza la riconosciuta allora sì c'è un confronto allora i precedenti penali ovviamente rilevano se e in quanto dimostrati chiaramente nel senso che ovviamente bisogna che acquisire cioè il fatto che la questura dica è il soggetto a precedenti penali sì ma legami un certificato del casellario quindi casomai chiediamo le informazioni alla procura della repubblica piuttosto che alla questura ma se non ci viene prodotto alcun documento non consta se constano ecco certamente conta innanzitutto quanto sono i risalenti perché più risalenti sono se si tratta di precedenti risalenti e dopo questo precedente c'è stata un procedimento di integrazione sociale capita a tutti di sbagliare conta la risalenza l'entità del precedente le circostanze e quindi si fa un giudizio caso per caso chiaramente nelle situazioni più gravi può essere considerato ragione ostativa perché non ci sono soggetto non inserito perché non non ha convivenza civile tuttavia ecco c'è situazione situazione chiaramente si fa un bilanciamento a proposito di precedenti penali capita mi è capito un paio di casi a me sicuramente uno il relatore di un reclamo non mi ricordo più e invece un'altra mia collega in primo grado dove persona sottoposta alle misure alternative la misura alternativa è siccome c'è sta circolare del 2000 che dice che la misura alternativa è permesso di vale come titolo di soggiorno ti nego il titolo di soggiorno e no insomma non è proprio proprio così ecco volevo aggiungerlo mi ero dimenticato di dirlo prima non è proprio così e sì è titolo di soggiorno però ciò non toglie che la persona può avere interesse a chiedere e ottenere un titolo di soggiorno quando è per esempio in prossimità della scadenza della misura alternativa cioè la circolare non è legge quindi ecco poi l'altra domanda era se vi era una prassi sì se vi è un confronto sulla integrazione sociale sì c'è in sezione però è un giudizio che viene fatto caso per caso e si tiene conto anche un'altra cosa di cui si tiene conto giovane età o non giovane età perché chiaramente ecco anche questa è una cosa per me il richiedente asilo ho fuggito giovane dal paese d'origine minorenne analfabeta privo di formazione professionale specifica è un conto richiedente asilo ho fuggito da poco tempo che aveva una formazione professionale specifica magari studente universitario eccetera eccetera mi diventa più difficile quindi sì c'è un confronto su quello e poi le altre domande quali erano allora non mi esprimo nel senso che non sono in grado di dare una risposta però mi viene da dire se si può lavorare col permesso di soggiorno per richiesta asilo perché non si può lavorare col permesso di soggiorno per motivi di richiesta protezione internazionale e protezione speciale mi sembra una differenza incongrua e non giustificabile però vado a logica c'è un principio di ragionevolezza e di buon senso che deve orientare nell'interpretazione delle norme quanto poi alla questione del ritorno non c'è una soluzione univoca dipende dipende se io ti ho dato la protezione speciale per un motivo di pericolo di sottoposizione a trattamenti inumani o degradanti se invece è per integrazione sociale o vincoli familiari è chiaro magari qui ha moglie figlio stabilmente inserito lì però anche il papà la mamma malata perché negargli il diritto di tornare cioè è una situazione è un giudizio che va fatto caso per caso a mio avviso dipende il motivo che ha portato alla protezione questa è la soluzione più congura la no se viene revocato viene revocato il giudice ordinario a mio avviso perché rientra un 19 ter però ecco il permesso di soggiorno per motivi di protezione speciale se viene revocato sì perché questo mi sento di e poi altre domande a le prove ecco allora mi è capitato poco tendenzialmente il lavoro in nero non viene considerato non viene considerato sintomo di integrazione questo esistono un paio di precedenti uno anche mio mi pare dove diciamo che se uno lavora in nero non è integrato perché no non paghi i contributi e quindi è un'interpretazione che non abbiamo preso a cuore leggero però abbiamo anche pensato se qualcuno è vittima di sfruttamento lavorativo triste passi ho visto che ci sono state delle inchieste nella zona del Veronese purtroppo recentemente poi un mesetto fa giusto un paio di settimane fa ecco esiste anche il permesso di soggiorno per motivi di sfruttamento lavorativo però diventa difficile diventa difficile anche immagino la posizione del richiedente che si trova tra due fuochi tra un l'altro quello da un lato quello di ottenere la protezione e collaborare ma dall'altro magari è anche minacciato o in posizione di vulnerabilità insomma altre domande io sul lavoro nero solo una riflessione nel senso che è evidente che il contratto non rientra nella disponibilità del lavoratore per cui bisogna vedere anche un po' la situazione l'ambito e se anche non consideriamo il lavoro nero magari un lavoro nero che è corredato da una denuncia rispetto al dato del lavoro e quindi la persona dimostra che non sono stati versati i contributi non per una sua scelta perché voleva risparmiare sulle tasse ma perché evidentemente la parte datoriale non l'aveva voluto assumere e quindi magari si può provare a ragionare fare anche un passo ulteriore per così avere anche una prova magari poi l'ispettrato del lavoro si muove fa un accertamento e abbiamo anche perché poi del lavoro nero uno dei problemi è come lo quantifichiamo quanto ha lavorato non c'è una prova documentale allora con la denuncia rispetto al dato e un accertamento ispettivo lì abbiamo una prova evidente che è perifacente dell'esistenza del rapporto di lavoro ok certo esatto scusate approfitto vorrei fare solo un rilievo più che altro non è una domanda appunto ci sono situazioni di lavoratori in nero che sono richiedenti asilo che sì d'accordo magari non hanno proposto nessuna denuncia però faccio un esempio mio c'è questa persona questo guineano che è in Italia dal 2017 lavora dopo 60 giorni che ha chiesto asilo ma sempre in nero per carità magari non brillerà di così iniziativa però guadagna 3500 euro al mese sono riuscita a raccattare gli assegni perché gli viene pagato un po' un po' dell'effettività del rapporto guadagna 400 euro in busta 1500 al mese di assegni e non mi viene data la sospensiva ora io questo come lo faccio uscire dal tourbillon in cui si è cacciato quindi a mio avviso ci vorrebbe non parlo ovviamente un po' più di purtroppo sforzo mi dispiace ma noi ce la mettiamo tutta perché perché altrimenti ci sono situazioni che rimangono stagnanti e che non è nemmeno corretto che lo siano sempre per quanto riguarda la questione del lavoro e soprattutto della possibilità di lavorare in attesa della decisione sul rilascio del permesso per protezione speciale da parte della questura concordo che non c'è un quadro normativo specifico potremmo pensare di ragionare in analogia in analogia con quanto è previsto per il primo rilascio del permesso per lavoro in cui il testo unico ci dice che in attesa del primo rilascio si può lavorare in analogia delle circolari che parlano di primo rilascio del permesso per motivi di famiglia che è molto simile a quello di protezione speciale e che dicono anche là la persona che abbia presentato domanda può svolgere tutti quei diritti che gli darebbe il titolo una volta rilasciato e anche magari richiamare quella che è la giurisprudenza della Corte di Giustizia sui casi Dublino tra l'altro che dice noi non possiamo lasciare la persona in attesa della definizione del procedimento priva delle misure minime di sostentamento perché sarebbe una violazione di un suo diritto e quindi in questo modo ancora più in una misura che è pensata a favorire l'integrazione pensare di marginalizzare la persona per i tempi anche molto lunghi che può avere una procedura sia amministrativa e poi giudiziale sarebbe veramente privo di criterio ma certamente ma che poi è anche interesse viva il Dio dello Stato che questa persona in attesa lavori lavora paghi i contributi si evita lavorando che possa entrare in circuiti poco belli ecco credo sia anche risponda anche ad un interesse pubblico quindi io non vedrei gli ostacoli il problema è sempre una normativa che è scritta pensando magari a caso specifico emergenza eccetera eccetera ma che di ampio respiro non è lancio la sfida per una ricodificazione del diritto dell'immigrazione sostanziale processuale perché non pensare ad un testo unico un vero proprio codice sostanziale processuale ecco lancio questa idea che piacerebbe molto a tutti e alla quale penso in tanti stiamo pensando da tempo io ringrazio davvero i nostri relatori per il convegno il dialogo insomma sentito interessato competente approfondito e insomma è non facile sicuramente e quindi grazie a tutti voi per l'attenzione a tutti a tutti quelli che ci hanno seguito da casa grazie ancora ma il team pot per il supporto logistico insomma di tutti i tipi e niente buon buon proseguimento a tutti buona estate se non ci vediamo prima e noi proseguiamo con i nostri lavori assembleari grazie